remember the dream ciao a tutti della zentuber siaki e la cicciona col cucchiaio forchetta che non abbiamo ancora deciso cosa sia in un altro episodio di happy wheels ragazzi siamo altresenta iscritti grazie a tutti thank you very much ok ok zumbia tamain bridge zumbia vada per zumbia non mi vorrei mai tasto oddio 6 con contorno no shift con spazzo tiro le frecce si va se ti soffiziona pofumofumato di fumarava anno spero di sì se no chiltro un gioco secondo me nooo oh cazzo mi sa che... ah no no c'è da 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 c'è attenzione questa sarà dura ora si è già da come l'altro questo più duri il cd cosa non cadono per la testa e' ragazzi ho vinto i win vediamo cosa succede ah niente così ah ok no io voglio fare un nome del genere mine bridge però con la cicciona col cucchiaio forchetta sii e si va e si va che cazzo tanti tanti tessi di cicciona ok ah ma ci sono delle mille per forza get over mine c'è una pallina non vorrei seguirla però aspetta ma se io vado su se io vado qua tipo prendi babbo natale per saltare in aria dai cosi dagli elfi andate andate ma ho ucciso babbo natale devi tirarti subito indietro elfi andate via indietro 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 si mi sa che l'abbiamo vinto mi sembra vinto il tronco di babbo natale è chiaramente arrivato al traguardo d'osatto ninja kid cristo ecco you can ma ecco non ce la fai vai questa è la soluzione ahahahah ci si si no no andiamo io 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 guarda bagli parte il bimbo ok sicuramente epico oranzo anche se ne so mandarino faccio ora head butto si cazzo 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 cosa potrà mai succese decisamente rr no però mi piace voglio farlo mt e si vede sedi sedi dietro wow guardate ahahah wow wow orange no direi che è pico oddio cosa abbiamo fatto in precisione queste precisi cazzo di figata chi è che l'ha fatto il circo ecco l'idea se che passa ecco riserva si cambia che figata o direi che questo è uno dei livelli più epici che abbiamo fatto sicuramente ma perché era aranzo con mandarini non come vera si è quello sono sbagliati quello che vanno mando riman come si dice mandarino in inglese non ne ho idea ok dai dobbiamo ammolarci guarda quanto pare oddio ahahah no dovevo aggrapparmi a cosa a qualcosa ma ne fossi qui alla sua gamba mi sono aggrappato e c'era una mina oh oh ecco ecco ahahah scogli la tua gamba dal mio bene bisogna appendere ah devi lasciarti la in mezzo ah dissi mi sa guarda effettivamente ti cominci comincia quindi siamo mezzo hai tipo un autobus ok io mi sono no 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 devi nasconderti no vado dalla cicciona devi nasconderti la cicciona è ottima e già quello lì è andato la cicciona è ottima come guarda devo mollarmi no ho sbagliato ok questo lo mollo no quasi ah come si fa a tirare in piedi impossibile mori vabbè no però veramente di farci dai drive a tenta dai qui da un carro armato si cazzo space entriamo da dove ah niente oh non ho letto le istruzioni ok space fornito ah beh acco in quadro oh la la e e uno e la bambina e il bambino e booo oh no ho sbagliato tasso questo lo voglio rifare scusami ma mi gasa tra po' si ah perfetto dai che questo va giù così ok e ora via verso la distruzione e parte subito la testa dai che rimane lì si cazzo è un trofeo di battaglia il brazzo in grado in testa da qualche parte il gioco ossia da fatto ma letto è finita perchè sono allora la uso di finito il sud assi infinitore allora buono io la uso la tengo per un punto asseri vittoria decisamente schiacciante assolutamente un po so che è scherzato i nemici esatto ok quindi da gentubus è tutto per il quinto episodio mettete mi piace commentate e iscrivetevi alla prossima ciao ciao